Taranto si sveglia oggi sotto una luce diversa, con la consapevolezza che il 2020 sta per terminare, ma senza alcuna certezza, su ciò che il 2021 porterà con sé. Che sia stato un anno difficile, lo sappiamo tutti, ognuno a proprio modo è stato toccato da una pandemia che alle nostre latitudini ha acuito le difficoltà già presenti. Il 2020 doveva consolidare il posto di lavoro per tante famiglie. Pensiamo a cassa integrati e dipendenti dell'acciaieria, gli ex Isola Verda, ex TCT, la nuova linfa attesa per Leonardo e invece siamo stati catapultati nel mare Magnum di una emergenza sconosciuta e che nella sua seconda ondata ha preoccupato, contagiato e ucciso ancora di più, rendendo evidente a tutti che la nostra sanità ha bisogno di una programmazione seria e diversa, non potendo sempre solo contare sui sacrifici di medici, infermieri e volontari. Non si è parlato più di tumore e inquinamento, eppure siamo stati costretti a dover lasciare andare grandi e piccoli angeli. Ogni settore senza distinzione ha sofferto un'economia in caduta libera, abbiamo fermato la scuola oltre che il lavoro, ci siamo abituati a guardarci attraverso webcam, siamo riusciti però a stringere i denti e rimbocarci le maniche, abbiamo imparato a donarci all'altro senza remore e senza risparmiarci. Se dovessimo scegliere una sola parola per descrivere il 2020 sarebbe senza dubbio solidarietà. Taranto in tal senso sia ancora più distinta. Se il vaccino ci permetterà di non doverci più preoccupare del covid, il 2021 sarà il momento per portare a termine consapevoli e coraggiosi, con un pizzico di speranza e fortuna, arriveremo dritti ognuno al proprio obiettivo.